buona giornata gentili telespettatori benvenuti alla rassegna stampa di fano tv come sempre siamo pronti per la lettura la sintesi dei giornali questa mattina a partire dal Corriere Adriatico e dal resto delle Carlino oggi si festeggia un santo particolare un santo che a me personalmente è molto caro si tratta di Santa Flavia Domitilla Domitilla è un nome piuttosto inconsueto ma comincia a essere diffuso anche nel nostro territorio e poi anche il nome di mia figlia quindi permettetemi di farle gli auguri Santa Domitilla fu una santa che visse durante l'impero romano sotto l'imperatore Domiziano fu martirizzata anzi fu prima esiliata nell'isola di Ponza dove fu relegata per la sua fede cristiana e qui morì comunque a Roma esistono famose le catacombe di Santa Domitilla il cui culto è associato a quello dei santi Nereo e Achilleo due soldati che furono martirizzati però più tardi rispetto all'epoca in cui visse Domitilla cioè nel terzo secolo e c'è anche una chiesa intestata appunto a questi due santi una chiesa che risale appunto all'epoca dei primi cristiani che vissero appunto a Roma. Vediamo le previsioni del tempo questa è la grafica di Santa Domitilla passiamo invece a quella del tempo e vediamo che la situazione rimane perturbata in tutta la regione sabato in compagnia di frequenti annuvolamenti sulle Marche con rischio di piogge su tutto l'Appennino ci sarà dunque un tempo non molto gradevole speriamo che almeno domani durante la domenica quando ci sarà un grande evento sportivo in tutto il territorio ovvero la Colle Marathon il tempo migliori le temperature oscilleranno tra i 14 e i 18 gradi si fa un pochino più fresco rispetto ai giorni scorsi comunque la temperatura rimane ancora gradevole. Oggi apriamo per primo il resto del Carlino vediamo l'apertura sulla pagina di Fano dedicata ad un argomento sportivo i nostri campi sono scalcinati ora il comune ci aiuti a rinnovarli è un invito che fanno i dirigenti delle scuole delle squadre delle scuole di calcio la protesta soprattutto giunge da Gimarra sono stati dati soldi al ballato e a Sant'Orso noi abbiamo dovuto fare un mutuo ha dichiarato così il presidente del Real Gimarra Daniele Serafini ed è anche il problema della società dei carissimi le nuove lampade a led non ci bastano per le partite in notturna insomma ci sono dei problemi sarebbero figli e figliastri perché in alcuni campi si fanno le spese pagate dal comune in altri invece sono le società sportive che devono provvedere ma ovviamente l'amministrazione comunale non può intervenire nello stesso tempo dappertutto. Serafini elenca gli interventi che sarebbero necessari a Gimarra avremo bisogno ha detto di sostituire l'illuminazione del campo in erba la nostra bolletta è già passata da 750 992 euro abbiamo il progetto circa 60 70 mila euro per l'impianto fotovoltaico per la produzione di acqua calda ma ce lo dobbiamo costruire da soli il comune ha solo dato lo che è insomma non basta lo perché il comune ci vuole anche qualche risorsa qualche soldino in più. Nuovo elettrodotto a Carrara i cittadini presentano il conto dopo le riunioni fatte con i tecnici i cittadini residenti di Carrara si sono riuniti e hanno stilato tutto un programma di interventi da presentare al comune ma da presentare anche ai tecnici di Terna per realizzare nella frazione tante cose con i soldi che Terna paga per le opere compensative. L'altro ieri l'ennesimo incontro e si richiede dunque vediamo un attimo l'interramento di tutti i cavi inclusi i tralicci dell'alta tensione da 380 mila volt alla messa in sicurezza della vecchia centrale. Entrambi gli impianti dovranno essere circondati da alberi ad alto fusto per fare una barriera attorno appunto a tutta l'area dedicata alla centrale. Inoltre sono state evidenziate proposte per compensare la svalutazione delle abitazioni quelle più vicine che ovviamente quando si pongono in vendita difficilmente troveranno un compratore e poi il completamento della rete fognaria dell'acquedotto la costruzione dei marciapiedi lungo la Flaminia, Flaminia pericolosa soprattutto nel tratto urbano perché poi la velocità delle autoveicoli è sempre elevata e poi ancora le asfaltature delle strade e la trasformazione dell'ex scuola di Carrara in sede per le associazioni e infine la costruzione degli spogliatoi per il campetto nel parco di Carrara. Sono delle richieste che i residenti fanno per i disagi che sono costretti a sopportare appunto per la centrale individuata nel loro territorio. Dall'infortunio nasce una borsa di studio ed è una iniziativa interessante. Si tratta di un infortunio del lavoro che è accaduto tempo fa ai danni di un giovane di 24 anni il quale è rimasto coinvolto in un incidente con un danno sensibile al braccio e alla mano. Ebbene ha dovuto passare 255 giorni di prognosi con un braccio fermo un danno permanente alla mano e un'ingiustizia subita. Ebbene ha avuto un risarcimento di 1000 euro e con questi 1000 euro si finanzia una borsa di studio triennale nell'ambito della Convenzione per il contributo alla ricerca sulle tematiche della tutela alla salute e alla sicurezza. Quindi un risarcimento che non si utilizza soltanto ai fini personali ma che viene riversato per uno scopo utile e di carattere sociale. E ieri anche una piccola perturbazione atmosferica ha causato dei seri danni. Un grosso ramo è caduto da una pianta secolare in via Flaminia ed è crollata nei pressi dell'incrocio tra la Flaminia e via Davide Squarce. Per poco non ha colpito un'auto in sosta. Per fortuna non è accaduto nulla. Comunque la viabilità ha subito dei rallentamenti sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Fano. Giriamo la pagina. Ecco qui l'articolo che riguarda la Colle Marathon, una delle più belle iniziative sportive che si svolgono nel nostro territorio da Barchi fino a Fano. Attesi oltre 1000 partecipanti per questa iniziativa podistica. ha sfondato appunto il muro dei 1000 iscritti in rappresentanza di ben 19 nazioni. Pensate, sono tantissimi i podisti italiani che interverranno a questa iniziativa ma sono anche tanti coloro che vengono da altre nazioni. E vediamo da dove vengono. Ci saranno i rappresentanti di Chattanooga che è poi gemellata appunto con la Colle Marathon nel Tennessee. E poi i runner provenienti da Albania, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Croazia, Spagna, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Germania, ancora Marocco, Peru, Romania, San Marino, Ucraina e Svizzera. Anche Ucraina vengono appunto i runner. Insomma è un'iniziativa di carattere internazionale che farà vedere a tutte queste persone le bellezze del territorio. Un territorio collinare che degrada verso il mare e giunge a fan una città d'arte e cultura. Lino Capolicchio, l'attore che è deceduto proprio in questi giorni, sarà sepolto a San Costanzo. L'artista, scomparso di recente, era affezionato al paese di cui era originaria sua moglie, Paola Pascolini. Proprio Capolicchio aveva espresso la volontà di essere tumulato nel cimitero di San Costanzo. Nato a Merano nel 1943, l'artista si rese noto per la sua interpretazione del film Il Giardino dei Finzi Contini che gli valse il Davide di Donatello. Ed ora parliamo di un'altra grande iniziativa, anzi di una sede, una grande serie di iniziative che si svolgeranno ad Urbino in occasione dell'anniversario che ricorda Federico da Montefeltro. Celebrazioni federiciane, eventi per un anno, rivocazioni per tutti i gusti, ce ne saranno veramente di tutti i colori, di tutte le varietà, diciamo così, per quanto riguarda il periodo rinascimentale. Urbino è una cornice ideale per inserire tutte queste iniziative, il ricordo di Federico, di quello che ha fatto il grande Palazzo Ducale, ma soprattutto la sponsorizzazione e questo termine non è stato scelto a caso per le arti e la cultura, tant'è che il Rotary Club di Urbino ha fatto un parallelo tra le sponsorizzazioni rinascimentali e quelle attuali. Celebrazioni federiciane, eventi per un anno, a un mese dal sei centenario di Federico da Montefeltro, è stato annunciato il programma di queste iniziative. Tre saranno le giornate all'insegna della rievocazione e ricostruzione di alcuni spezzoni del suo percorso, della vita di corte, delle innovazioni e degli eventi culturali. Sabato 4, domenica 5 e martedì 7, la data della nascita con iniziative sia a Urbino sia a Canavaccio. Ebbene, ad aprire festeggiamenti in piazza Duca Federico, alle 16 del sabato, sarà il lancio delle comete ducali, così vengono definiti gli aquiloni che saranno creati per l'occasione. E poi l'inaugurazione della mostra Sapientia Pietas e Otium al tempo del Duca Federico da Montefeltro, a cura di Monsignor Tonti, tra Museo Diocesano Albani e Oratorio della Grotta del Duomo. Sono le prime iniziative, poi ce ne sono tante altre, sono tutte elencate, vedete in questo lungo articolo del resto del Carlino. Il giornale dedica appunto all'argomento un'intera pagina perché l'evento merita appunto questa promozione, questa considerazione. Ortopedia, nominato il nuovo primario ad Urbino, si tratta del dottor Paolo Pirchio con oltre 2.300 interventi di ortopedia e traumatologia al suo attivo e 18.000 visite ambulatoriari. Quindi un dottore esperto, un dottore capace, un dottore che certo concorrerà alla qualificazione delle prestazioni sanitarie dell'ospedale di Urbino. E poi una iniziativa assunta dal consigliere regionale Giacomo Rossi, che è stata tradotta poi in norme, si tratta del pagamento del ticket per chi vuole raccogliere i funghi nel nostro entroterra. Ebbene si paga una sciocchezza, però una sciocchezza qui, una sciocchezza là, una sciocchezza da un'altra parte, alla fine si ricava un bel bruzzoletto a favore dei comuni dell'entroterra. Chi vorrà raccogliere i funghi dovrà pagare un euro, mentre per i cittadini non marchigiani la somma è di 2,50 euro, insomma 2,5 euro, cifre minime che tutti possono sostenere ma che nel complesso potranno rappresentare delle importanti risorse per i comuni della raccolta. A scuola non faremo entrare i bambini di Borgo Pace, una drastica risoluzione assunta dal sindaco Fernanda Sacchi, sindaco di Mercatello del Metauro. Non è una rivalsa, non è una protesta nei confronti appunto di Borgo Pace, ma è anzi un atto di solidarietà. Vietando l'ingresso dei bambini di Borgo Pace a Mercatello si vuole evitare il disagio di questi bambini. Si vuole che la scuola di Borgo Pace rimanga attiva, rimanga al suo posto, i bambini la possono frequentare, non debbono essere costretti di percorrere tanti tanti chilometri per arrivare a Borgo Pace, anche perché poi Borgo Pace potrebbe, Mercatello potrebbe subire poi la stessa sorte di Borgo Pace perché poi via via queste cose si riproducono a catena. Quindi una drastica soluzione del sindaco Fernanda Sacchi. A questo punto diamo un'occhiata anche alle pagine di Pesaro, del resto del Carlino e vediamo come i lavori pubblici e privati vengono condizionati moltissimo dal super bonus. I palazzi in fila per ottenerlo. Attendiamo solo lo sblocco del credito. Parla così l'avvocato Maggioli, il socio di una nota società di amministrazione di condomini. Non possiamo dare il via libera ai lavori finché le banche non danno l'ok del governo e interviene anche l'assessore della Dora in questo argomento. 345 cantieri, ha detto, sono sorti negli ultimi otto mesi. La città sta veramente cambiando faccia. Diamo un'occhiata anche a questa foto, tabella, che appare appunto a corredo di questo articolo e vediamo che 350 sono i certificati relativi ai bonus facciata dal 1-1-2021 ad oggi. 216 sono CILAS, ovvero Superbonus, 345 le pratiche delizie con bonus negli ultimi otto mesi e 129 le SCIA, ovvero i permessi di costruire, che il Comune ha rilasciato. E poi una dichiarazione di un imprenditore edile. Ho 30 dipendenti e 3 milioni di crediti, ma con questo governo si rischia troppo, ha dichiarato Simone Tagliabracci. Se le banche non ci daranno assicurazioni, per molte ditte sarà dura. Aumenti delle materie prime, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, che sono una delle cause dei rallentamenti dei cantieri, forse anche dello stop dei lavori. Non sono quelli, però, secondo gli imprenditori, che fanno sballare i conti, ma sono i costi legati agli istituti di credito. Insomma, istituti di credito che sarebbero esosi per quanto riguarda la definizione, appunto, delle pratiche. Movida e orari. Si attende la mossa del Comune. Stabilimenti balneari pronti per la stagione. La tendenza sarebbe quella di concedere deroghe una volta alla settimana, insomma, per fare divertire almeno i giovani. C'è anche una dichiarazione di Davide Ipaso. L'anno scorso, troppi eccessi. Il percorso va quindi regolamentato bene, affinché tutti si possono divertire in sicurezza, senza problemi e senza tanti vandalismi, perché poi capitano anche quelli. Mascherine non conformi. Guai per l'Aspes e soprattutto guai per Luca Pieri, il rappresentante legale, chiamato a rispondere in tribunale. Ebbene, che cosa è accaduto? È accaduto che l'Aspes ha acquistato 500.000 mascherine da un produttore che poi si sono rivelate non conformi alla normativa in vigore. L'Aspes però non se ne è accorta e ha venduto queste mascherine tramite le sue farmacie. E quindi è stata accusata, oppure è stata considerata correa per quanto riguarda la non osservanza delle norme. In effetti però Luca Pieri si difende dicendo che lui è la vittima di questo raggiro, tant'è che poi l'Aspes ha denunciato il fornitore per non aver rispettato le norme stesse, ovvero non aver mentito per quanto riguarda le dichiarazioni di conformità che sono state allegate alla spedizione. Comunque il problema rimane. Sono 500.000 pezzi giunti ad aprile 2020 in piena pandemia che sono stati dunque venduti. Si spogliò davanti a mamma con un neonato imputato un 56enne algerino che ora deve rispondere del suo atto in tribunale. E poi si parla della scuola elementare Anna Frank che sarà tutta nuova. L'attuale fabbricato sarà demolito e sarà completamente ricostruito. Metterà le ali, intitola il resto del Carlino. Dal PNRR il Comune ha ottenuto 3,5 milioni di euro con cui demolirà e ricostruirà la scuola di Santa Maria delle Fabrecce, architettura d'avanguardia. E questo è il progetto che si intende appunto realizzare. E poi abbiamo l'intervento di diversi consiglieri di minoranza per quanto riguarda l'ospedale dopo l'intervento del Presidente della Regione Acquaroli al Consiglio Comunale di Pesaro dove Acquaroli ha un po' delineato quelle che sono le intenzioni della Regione per il nuovo nosocomio. Ci sono però tante altre domande che attendono una risposta soprattutto la domanda principe. La nuova struttura sarà sotto Marche Nord o verrà gestita dall'area vasta 1. In sostanza verrà abolita l'azienda ospedaliera e si ritornerà sotto l'organizzazione regionale come quella appunto dell'area vasta oppure si manterrà l'azienda ospedaliera. Insomma tutta cosa è ancora da decidere. Ecco Gigliola, la panchina antiviolenza è stata collocata a Gradara ed è simbolo del rispetto delle donne gli studenti educati ad onorare la parità di genere e la cronaca ci dice quanto ce n'è bisogno di cultura, della solidarietà di cultura, del rispetto per quanto riguarda le donne e soprattutto la tutela alla violenza contro la violenza appunto di genere. Apriamo ora il Corriere Adriatico vediamo l'apertura dedicata alla pagina di Fano dove si parla del porto turistico il Comune si fa garante dei diportisti sappiamo come Marina di Cesari è stata dichiarata fallita dal Tribunale il 26 aprile scorso ora c'è nel giornale la nomina del curatore fallimentare si tratta dell'avvocato Gaia Cesaroni del Foro di Pesaro sarà lei dovunque a gestire l'ultima fase di Marina di Cesari a parte comunque il ricorso che l'imprenditore Alberto Cazziol ha presentato o presenterà al Tribunale dopo la sentenza di fallimento appunto a lui sfavorevole e il giudice che ha decretato il fallimento e ha nominato il curatore fallimentare è Lorenzo Pini inizia così l'ultima fase diciamo del ciclo imprenditoriale altalenante nato nel 2003 sotto i migliori auspici poi purtroppo osteggiato da tanti avvenimenti avversi ovvero la crisi del 2008 la crisi dei subprime che arrivò dall'America e osteggiò tutta l'Europa e poi i provvedimenti governativi come quelli del governo Monti che impose una tassa sui proprietari di barche e poi ancora la pandemia e ora la guerra insomma tanti tanti problemi che hanno fatto sì che la società marina del Cesare acquisisse acquisisse un debito di 11 milioni di euro e questo è l'ammontare del fallimento comunque Cazziola ha presentato ricorso e vedremo poi come andrà a finire ricorso in Cassazione raddoppio suolo pubblico così non va bene ci sono anche dei contestatori per quanto riguarda il provvedimento preso dall'amministrazione comunale per facilitare bar e ristoranti per far sì che si risolve che si scusate che rinascano un po' dalla crisi in cui sono precipitati per quanto riguarda la pandemia e tutto il lockdown che hanno attraversato ebbene ci sono delle contestazioni perché molti non osservano in maniera appropriata le norme che sono state che sono state varate dall'amministrazione comunale uno di questi è il ristoratore esposto che spiega perché la misura non aumenta il decoro ci sono poi tavoli sedi accatastate che rimangono così per o diverse giornate oppure per lunghe ore nella stessa giornata e non depongono appunto per la immagine della città e per il decoro delle stesse aziende così non va bene ha detto esposto l'esperienza agroalimentare per invertire il sottosviluppo questo è un articolo che riguarda la collaborazione che il comune di Fano ha intrapreso con alcune aziende della Tunisia in arrivo nel nostro territorio c'è una delegazione di imprenditori tunisini che visiteranno diverse aziende locale che fanno della bioagricoltura che fanno delle coltivazioni speciali che possono insegnare appunto agli agricoltori nordafricani come si fa dell'economia produttiva nel loro territorio e poi vediamo sbloccata l'asfaltatura delle strade con le buche slitta l'intervento che diluisce che si diluisce sino alla fine dell'anno è stato sbloccato l'appalto per la campagna delle asfaltature da parte del comune ci sono stati dei ritardi comunque si precisa che la conclusione è programmata addirittura per la fine del 2022 si lavorerà anche durante l'estate per asfaltare le strade dato che l'inizio dei cantieri è stato procrastinato appunto a questi giorni ancora non se ne vedono per strada ristrutturare possibile il centro storico da salvare a Fossombrone l'impegno dell'amministrazione comunale contro gli ostacoli burocratici che frenano i cittadini per accelerare le pratiche per far sì che ci sia un più stretto contatto tra gli uffici e i cittadini stessi e poi vediamo ancora sulla Corriere Adriatico la pagina di Senigallia dove si parla ancora dell'accessibilità delle spiagge in modo particolare nelle ore notturne spiaggia vietata dopo mezzanotte l'ipotesi volontari per informare il sindaco Livetti pensa alle associazioni e sulla sicurità dice è apprezzabile un servizio aggiuntivo e l'ordinanza emanata dal sindaco prevede il divieto di accesso e di sosta negli stabilimenti balneari dopo la mezzanotte e la chiusura anche degli stessi fatta eccezione per le serate in deroga alle 21.30 una decisione che si è imposta appunto per episodi di vandalismo e di intolleranza che sono verificati nei giorni scorsi e anche in passato l'assistenza medica esternalizzata per la gestione del pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia ieri è uscito il bando da 600.000 euro ed è una soluzione per affrontare il periodo per quanto riguarda la gestione del pronto soccorso da giugno a settembre non si chiede un numero specifico di medici ma di appaltare tutta l'attività di pronto soccorso all'esterno in modo che ci sia un concorso anche del privato e che possa qualificare almeno si spera la prestazione del nosocomio per quanto riguarda soprattutto la celerità delle cure mediche che devono essere fornite per quanto riguarda invece Pesaro vediamo che le pagine iniziano a parlare del Tribunale tre anni di stop per ripartire con una nuova gara si tratta del vecchio Tribunale di Pesaro in via San Francesco il primo passo del comune sarà la ricerca di progettisti per il polo museale in un secondo momento poi si passerà all'affidamento dell'incarico dei lavori cambiamo del tutto la prospettiva ha dichiarato il vice sindaco Vimini stop a Corriere Selvaggio in centro si sarà la stretta in questo caso tutti i fornitori dei negozi del centro storico dovranno osservare nuove norme per entrare nel centro insomma non potranno farlo più a loro piacimento ma dovranno soprattutto osservare degli orari precisi che vengono impartiti dall'amministrazione comunale e siamo ormai in conclusione non mi rimane che segnalarvi un ultimo articolo San Decenzio partono i lavori del nuovo parque con tre mesi di divieti da lunedì né bici né pedoni lungo la ciclabile che porta appunto quest'area di parcheggio ed era l'ultima notizia a questo punto non mi rimane che augurarvi una buona giornata un buon weekend e noi ci risenteremo lunedì alle ore 7 per la consueta rassegna stampa buona giornata a risentirci a rispettaremo